Sì, pronto? Ciao! È la tua collega che ti chiama. Come sta il poliziotto in il cognito più famoso del mondo? Cerca sempre di mettere ordine in questa città. Indovina un po' chi è venuta prima in ufficio? La famosa cantante di Laila. Mi ha chiesto di farle da guardia del corso. Stai scherzando, com'è possibile? Aaron. Aaron? Credevo che voi due ormai non vi vedeste più. Sì, lo credevo anch'io. Scusa un attimo, vengo subito da lei. Prego. Aaron mi ha detto di raggiungerlo al montai di Inna per il caso di omicidio plurimo. Crede che il tizio che sta importunando di Laila sia anche l'assassino dell'hotel. Britt! 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 Scusa un attimo. 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 Brite Non può più rispondere Io ti amo